Eeeh, bella popolo youtube, qui sono benvenuti in questo quarto episodio delle 10 cose che non sai della casa Redstone 3.0 di Francis Drake Number 1 La sala di pozioni è stata fatta con Monster Egg invece che Stonebrick, quindi se qualcosa esplode in quella zona vi ritroverete pieni di Silverfish Number 2 La sala di armature è funzionante, infatti basta entrare nel calderone e ti vestirà anche in automatico grazie a dei dispenser Number 3 Lo sapevate che c'è un passaggio segreto nel corridoio? Basta piazzare una torcia in questa posizione qua in cucina e si aprirà il passaggio segreto Number 4 Per rendere speculare la sala di pozioni è stata inserita anche la pozione della fortuna, anche se questa non è craftabile Questo era già stato anticipato nel video di Suriv dell'autocrafting delle pozioni Number 5 Nel sistema di smistamento mancano solo i fiori e le erbacce, questo è stata una dimenticanza mia, infatti non avevo fatto il conto mentre stavo creando il magazzino Number 6 Ci si può sedere in quasi tutti i punti della casa, infatti anche per esempio nella vasca da bagno e zone inusuali Che magari nessuno avrebbe mai pensato che ci si potesse sedere Number 7 Ogni tunnel della stazione è fatto di colori diversi, questo permetteva di differenziare l'uno dall'altro Number 8 Un common block è sbagliato, esatto nella stazione c'è il killing delle entità chiamate minecart in modo da far scendere in automatico il player Con le coordinate Z di uno sbagliato, questo si potrebbe fixare tranquillamente modificando un common block ma purtroppo la mappa è già stata rilasciata Number 9 Il canocchiale nell'osservatorio doveva essere funzionante ma questo non lo è stato per mancanza di tempo Number 10 E concludiamo in bellezza dicendovi che il logo di Youtube era stato creato per caso, infatti stavo creando la mia skin su Minecraft in lontananza Poi non si sa per quale motivo è stato inserito anche nella casa Redstone Quindi per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando sostenete questa serie In teoria dopo domani dovrebbe uscire l'ultimo video di questa serie, quindi noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti ragazzi